... ... ... ... Orchidea press veloce dall'esterno e dall'esterno nella seconda fila è rapida anche Oxana Foto poi Opals lungo lo steccato Orchidea al comando Oxana che attacca poi Opals sbaglia Oxana Foto lungo l'arco della curva 200 iniziali coperti in 15 e mezzo con con Orchidea in vantaggio, davanti a Opals, a largo Nonno Vasco va ad incalzare Orchidea, intanto in terza posizione, Noodles BF che poi lascia lo steccato, valli che vanno verso il completamento dei primi 600, Nonno Vasco è sfilato su Orchidea a pressa, adesso è Noodles BF a farsi avanti, Opals in terza posizione allo steccato, lungo l'arco della seconda curva, Nonno Vasco in vantaggio, i 600 in 47,2, completata anche la seconda curva, Nonno Vasco, Orchidea, a largo Noodles BF, poi alla corda Opals, all'esterno Never B che si porta a pressa ombra del vento, passa Noodles BF, manca un chilometro al termine, i mille iniziali in uno 17,6, Noodles, Nonno Vasco, Orchidea, Opals, Never B, a largo si trascina ombra del vento, e poi anche Nando Capar, lungo la corda Ordigno, Mark, 800 metri al termine, con la prima frazione del secondo chilometro, sul mio cronometro in 15,4, Noodles, Nonno Vasco con a largo Orchidea, Opals con all'esterno Never B, Ordigno con a largo ombra del vento, a 500 dal termine, Noodles BF sempre in vantaggio, poi Orchidea, in difficoltà Opals, a largo Never, seguita da ombra del vento, all'estercato Nonno Vasco, metà della piegata finale ormai superata con Noodles in vantaggio, Orchidea che prova l'aggancio, Never B in terza ruota, chiude la briglia Andrea Esposito, più a largo anche ombra del vento, di dentro Nonno Vasco, Noodles attaccato da Orchidea, interviene al ciglio esterno anche ombra del vento con gran finale, le battute conclusive, lo speed di Orchidea che dovrebbe essere riuscita a salvarsi la ombra, poi Noodles e Never B, vediamo perché Orchidea dovrebbe essere riuscita a contenere ombra del vento, vediamola sul pallo, sembrava venire a vincere ombra del vento e poi invece Orchidea ha trovato il guizzo giusto e vediamo se è stretta, è stretta ma forse ce la fa ancora Orchidea su ombra del vento, vedremo l'esito della foto perché qui è necessaria, Nudos VF al terzo, Never B al quarto posto, 2.34 e 6 sul mio cronometro quindi la metà sarebbe 17.3 considerando i 60 iniziali,